Di giorno in giorno, d'ora in ora, i colpi di scure risuonano più vicini e più forti, mentre tutta la foresta si copre di fiori dorati e il vento di giugno si fa più caldo e odoroso. Nonostante la scura e il coltello di cui erano armati, popolavano il luogo selvaggio, e quasi tutti, e quasi sempre, tacevano. È la privatizzazione delle terre, è il famoso editto delle chiudende, che trasforma delle consuetudini millenarie in nuove opportunità. Su Monti di Nuvo, prima era del comune, assolutamente una legge, e non le proprietà si diventavano comune, e cioè su Monti di Nuvo. La Sardena è stata prevalentemente una economia pastorale, e i Sardensi raccoltevano che tanta loro vita dipendeva, dipendeva dalle arvole. È un sogno, non è davvero il problema per noi. Spirits che vivono dentro delle rocci sono l'ancestore di spirits che vivono dentro del bosco. E se il bosco ha grandi rocci, è un paese molto speciale. Guarda com'è alto là, è altissimo.